In questa puntata, il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Montecitorio, commenta il giuramento di Mattarella, discorso perfetto di un gigante della democrazia, orgoglioso di averlo votato. Il portavoce dell'opposizione Marco Landi, forte attenzione alla necessità di riforma della giustizia. Le forze politiche dovranno far tesoro delle sue parole sull'unità della nazione. Non è stato semplice arrivare alla scelta del presidente Mattarella, ma da oggi si riparte con ancora maggiore stabilità, ponendo al centro i temi più importanti per le famiglie, il lavoro, l'occupazione giovanile, la necessità di guardare con speranza ed ottimismo al tempo che verrà. E sono certo che lasciare il Paese nelle mani del presidente Mattarella ci dà quella garanzia e ci dà anche la possibilità di guardare davvero con speranza ed ottimismo al futuro. Inizia un settennato dopo due anni di pandemia. Il Paese sta uscendo sicuramente da un periodo complicato e noi auspichiamo che ci sia un ritorno di una politica attiva e che questo settennato rappresenti l'unità di tutti gli italiani e che questo presidente della Repubblica che viene al suo secondo mandato dia, come ha dimostrato negli scorsi sette anni, sia sempre più elemento di unità nazionale e di garanzia per essere il presidente davvero di tutti gli italiani. Aree interne, la manutenzione della rete elettrica, una mozione impegna la Giunta a snellire le norme. Questa proposta di risoluzione è stata ovviamente votata all'unanimità in commissione, è partita da due commissari, Fantozzi e Puppa, è stata poi sviluppata. Sinceramente si pensa come commissione aree interne per favorire il rimanere delle persone nelle aree interne e montane e addirittura anche per attrarne di nuove che si possa partire dalla ristrutturazione anche di abitazioni perché la maggior parte delle abitazioni sono anche da ristrutturare e sono di proprietà di persone magari anziane. Quindi se si favorisce questa ristrutturazione si può favorire la rinascita di alcuni paesi. Sì, noi abbiamo adesso una fase molto importante, si parla del PNRR ma in realtà c'è una programmazione ordinaria che l'Unione Europea sta trattando con le regioni e così come ci sono anche altri elementi di programmazione dei prossimi anni. Noi abbiamo nelle aree interne zone dove bonus 110, bonus facciate non attaccano perché non c'è attrattività, c'è un patrimonio edilizio, in particolare quello privato, in parte quello pubblico ma soprattutto quello privato che si deteriora, perde di valore e ci sono problemi di abbandono ormai non solo nelle aree montane ma in quelle collinari. Probabilmente gli strumenti che abbiamo messo in campo a livello nazionale finora sono buoni dal punto di vista del recupero del patrimonio edilizio esistente ma non sfondano rispetto al tema dell'abbandono del patrimonio soprattutto privato in queste aree e quindi noi dobbiamo rispetto a questo nei nostri strumenti di programmazione e anche a livello nazionale mettere in campo una proposta mirata su questo aspetto perché questo diventerà anche questo purtroppo un problema sempre più serio per le amministrazioni comunali e poi soprattutto parte, va via non solo un immobile quando si deteriora ma l'identità di un paese e poi alla fine dei nostri centri abitati e della nostra cultura e della nostra storia. La nostra proposta di risoluzione chiede semplicemente di porre al centro di questo mandato l'attenzione sulle aree interne però dal punto di vista fattuale quindi non soltanto attraverso la narrativa che ascoltiamo in aula ma attraverso la possibilità di impostare risorse maggiori con interventi mirati con attenzione a quelle che sono le molteplici difficoltà che esistono nelle aree interne tra cui quella del recupero la funzionalizzazione del patrimonio edilizio. Pensare che su tre anni come dal documento del DEF siano destinati soltanto l'1,7% delle risorse ci ha preoccupato e ci ha spinto sostanzialmente a lavorare nella direzione di questa proposta di risoluzione perché per noi il problema delle aree interne è centrale non è un problema che sta fermo ma è su un piano inclinato dove ogni giorno sostanzialmente c'è un'erosione sotto il profilo dei servizi al cittadino quei servizi che sarebbero essenziali a una comunità per svilupparsi e quindi la nostra attenzione voleva rimarcare questo aspetto chiaramente in una chiave costruttiva cosa che ha portato di concetto con le altre forze politiche all'interno della Commissione e del Consiglio regionale ha dell'approvazione unanime del nostro testo Io ho votato contrario a nome del Movimento 5 Stelle perché per quanto possano apparire comprensibili e giustificabili le intenzioni non mi fido di questi atti che aumentano le possibilità di tagliare in modo un po' così indiscriminato senza tante regole quindi ho votato contrario perché non mi sento tutelata da questi atti di questo tipo tra l'altro vi anticipo che sto ultimando una proposta di legge proprio per rivedere e modificare la legge forestale regionale della Toscana e quindi in attesa di questo che avverrà entro la prossima settimana io ho votato contrario a nome del Movimento 5 Stelle Terme di Montecatini si va verso il concordato in bianco l'assessore alle infrastrutture digitali e all'innovazione Stefano Cioffo in aula dice scongiurare il pericolo di fallimento delle società anche superando la necessità della messa in liquidazione espressa negli atti regionali Il centrodestra chiede che sia avviato un concordato per avviare un concordato però occorrono delle basi solide per questo motivo noi chiediamo alla Giunta come promesso anche dal Presidente Gianni in campagna elettorale che acquistino il Tettuccio uno stabilimento di valore storico architettonico indicibile che è giusto che rimanga in mani pubbliche questo perché perché la Giunta regionale ha acquistato tantissimo a partire dall'ex Mayer e altre strutture a noi ci sembra che l'acquisto del Tettuccio sia diciamo doveroso da parte della regione toscana Come centrodestra abbiamo presentato una proposta di risoluzione collegata alla comunicazione che oggi è costretto a fare l'assessore Cioffo per chiedere che caduta la pregiudiziale delle possibili azioni revocatorie proprio perché in presenza di una istanza di fallimento si può procedere tra le altre anche alla procedura di concordato la regione dia seguito alle promesse fatte le ultime dal Presidente Gianni nel 2020 ed acquisti il Tettuccio sarebbe una operazione straordinaria all'interno naturalmente di un piano più complessivo che potrebbe vedere anche la partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti per le Leopoldine che rimetterebbe sostanzialmente conti a posto chiuderebbe i rapporti con i tanti creditori della società e consentirebbe quindi di non bloccare né l'attività né tantomeno la fruibilità pubblica degli spazi più prestigiosi ma sulle terme è evidente che un processo industriale economico così forte nel territorio nella Toscana che sa che valorizzare il termalismo porta a delle scelte importanti la regione Toscana deve essere il contenitore può gestire la parte immobiliare e quando è in grado di poterlo fare sicuramente non può più essere un soggetto gestore alcuni processi in questa direzione sono andati anche bene in questi anni rispetto anche ai vincoli della Corte dei Conti a posto ai bilanci regionali basta prendere quello che è successo a Chianciano su Montecatini la problematica è maggiore c'è una mole anche di indebitamento notevole è evidente che ogni passaggio e ogni valutazione va fatta con accurata delicatezza ed è corretto che l'assessore abbia riferito al consiglio della fotografia dalla quale appunto la regione dovrà assumere le proprie decisioni il problema grosso è che intorno alle terme di Montecatini è legata alla produttività e all'economia di un'intera città di un intero territorio e questo rende ancora più colpevole e più ingiustificabile l'atteggiamento della regione toscana che tra l'altro noi pensavamo nel frattempo da quando c'è stata l'audizione in commissione controllo dell'assessore Cioffo si fosse mosso anche sui tavoli governativi invece oggi nella relazione dell'assessore non c'è assolutamente traccia di un interessamento di un contatto con il governo e questo è chiaro che non può essere un problema risolto soltanto dalla regione toscana io ho ribadito quanto detto al momento dell'approvazione del DEF cioè gli obiettivi sono quelli di salvaguardare l'occupazione dare continuità a servizi valorizzare il patrimonio e soprattutto garantire la fruibilità pubblica del tettuccio di quel nucleo identitario forte che costituisce anche l'agorà della città stessa questo lo si fa a questo punto nell'ambito di una procedura e siccome sono intervenute anche interessi vari come quello la disponibilità della fondazione Caripit a acquistare un immobile e la disponibilità dei ministeri a lavorare insieme ai soci per garantire il salvataggio della società vorrei che questi obiettivi venissero conseguiti attraverso un lavoro comune quindi non dando noi soluzioni e ricette ma lasciando che la giunta valuti insieme al socio comune e agli altri partner la strada migliore da seguire ripeto per garantire che la proprietà pubblica del tettuccio venga messa in campo venga conseguita venga garantita ma con una strada chiaramente che deve essere condivisa fra tutti e con un ruolo che certamente la regione avrà al via un provvedimento rivolto all'associazione bande musicali e all'associazione cori previsto uno stanziamento una tantum per il 2022 di 150 mila euro il secondo provvedimento è a favore dei comuni per iniziative di promozione socio-culturali rivolte alle giovani generazioni le bande e i gruppi corali in questo periodo di covid ovviamente hanno sofferto come tanti dello spettacolo dal vivo quindi con questa proposta di legge si cerca di dare un aiuto concreto per la loro ripartenza questi aiuti verranno dati a due associazioni che riuniscono le bande e i cori che a loro volta li daranno su progetti alle singole bande e ai singoli cori ovviamente la giunta poi dovrà avere i resoconti che i progetti siano stati portati a termine in concreto il consiglio regionale è oggi destinato oltre 2 milioni dei fondi di accantonamento del proprio bilancio la prima PDL la 94 ne ha assegnati 150 mila per un investimento una tantum nelle attività delle bande dei cori musicali le bande musicali e cori sono attività che hanno una forte attenzione sui territori che vedono due associazioni sul territorio regionale che raccolgono tutte le istituzioni gli enti le associazioni interessate e che collaboreranno con l'ufficio di presidenza e con il consiglio regionale per distribuire questo finanziamento che vorrebbe sostenere le attività dopo un biegno di forte difficoltà dovuto anche al covid in cui queste attività culturali nelle quali le nostre comunità territoriali si riconoscono e che sono molto seguite diciamo hanno avuto una battuta del resto il fine sarà mettere insieme i ragazzi dare i loro processi di autogestione utilizzare spazi pubblici ma soprattutto rideterminare rigenerare nuove forme di socialità e di aggregazione credo che sia una legge innovativa e importante che allo stesso tempo può andare anche a finanziare iniziative artistiche culturali sociali di promozione anche musicale ma essenzialmente il fine ultimo era la volontà dell'ufficio di presidenza e oggi anche del consiglio regionale di mettere insieme i ragazzi